Buongiorno e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare like che attiverà la campanellina. Parliamo oggi del tempo previsto nei prossimi 4-5 giorni, quando una massa d'aria molto fredda si butterà sull'Italia sotto forma di venti dai quadranti nord-orientali molto freddi. Tutto questo si tradurrà in una forte perturbazione atlantica che colpirà maggiormente il medio-basso versante adriatico con piogge diffuse soprattutto tra Emilia, Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Alto, Abruzzo e Campania. Piogge che poi si sposteranno verso sud e sud-ovest. Avremo quindi molta pioggia con accumuli fino a 20-40 mm su tutto il sud, accumuli un po' inferiori sulla Puglia meridionale a causa di ombra pluviometrica. Avremo l'entrata della termica come si vede da questa mappa, meno 2-3, sulle Alpi centro-orientali. Quindi avremo nevicate a partire dai 1100-1200 metri localmente più in basso nelle vallate più fredde delle Alpi orientali. Tutto questo si tradurrà in un periodo piuttosto freddo e molto umido, soprattutto sulla pianura padana, con temperature minime che scenderanno fin verso gli 0 gradi nelle ore notturne. Poi avremo inoltre la possibilità di una formazione di una tempesta tropicale mediterranea tra il 25 e il 26 sul Mar Ionio orientale, con venti fortissimi fino a 150 km orari.